Saluto con gioia la liberazione dei nostri 18 pescatori, ma provo profondo disagio per la volgare ed ulteriore esibizione di cinismo di Conte e di Di Maio. Da contribuente esigo che la magistratura faccia sulla vicenda quella chiarezza mancata sul rilascio di Aiscia Silvia Romano. Ancora alla magistratura chiedo perché si continui a rappresentare come decessi da Covid i decessi motivati da altre patologie? Perché furono vietate quelle autopsie che avrebbero potuto prevenire la morte di decine di migliaia di persone? Perché il ministro Speranza e il suo premier non siano ancora imputati di strage dolosa? E infine perché le attività dei cinesi, possano procedere senza limite di orari mentre sono ferme quelle attività nazionali. Se la magistratura persistesse nel silenzio saremmo costretti a prendere atto che il problema della trasparenza non riguardasse solo Palamara e che servilismo, omissioni e complicità la fanno ancora da padroni contro il popolo e a sostegno di un governo deciso a fomentare terrore e divisione sociale. L'esasperazione dell'emergenza infatti ha il solo pretestuoso scopo di forzare l'ordinamento repubblicano, di spingere verso la desovranizzazione totale attraverso il MES, di attuare sperimentazioni affini eugenetici e di estrazione nazista. Sta a noi svuotare di pregio giuridico e morale le farneticazioni dei Franceschini e dei Boccia, quelli che confermando illiberalità e incostituzionalità dei provvedimenti fin qui adottati, aspirano addirittura ad introdurre controlli di polizia nei giorni di festa nelle nostre abitazioni. Ci vadano piano. Prive di valore sono anche le dichiarazioni di questo Di Maio, che ha detto di aver rinunciato a molto per far politica. In effetti è vero, ha rinunciato alle mance di chi gli comprava una Coca-Cola. Ecco, a questo tizio elegante come una marionetta vorrei dire che vi permetteremo di uscire non è una sua concessione. Uscire è un nostro non ancora prescritto diritto. Non sfugga a questo ignorante. Un pensiero voglio rivolgerlo anche a Renzi e al suo proposito di raccogliere firme che rendano obbligatorio il vaccino. Nessuno potrà calpestare impunemente e in un colpo solo la Costituzione, il Trattato di Oviedo e la dichiarazione dei diritti umani. Nessuno potrà imporre un vaccino improponibile per il già solo fatto di essere ancora sperimentale. A questi avventurieri suggerisco di darsi una regolata prima che la misura si colmi e ci siamo vicini. Agli italiani dico aprite gli occhi prima che sia tardi. Non siamo di fronte ad una campagna vaccinale, siamo di fronte ad una spietata sperimentazione. Non prestatevi, non fatevi uccidere.